Se mi dovessero chiedere, Cristina, secondo te qual è l'animale al mondo che ha avuto più successo dal punto di vista dell'evoluzione della specie? Credo che mi verrebbe in mente l'essere umano, visto i danni che siamo riusciti a fare, però non è l'essere umano, ma dal punto di vista strettamente dell'evoluzione, l'animale più di successo al mondo è la mosca. Quella che noi chiamiamo mosca, ma che in realtà è tutta una categoria, c'è una tassonomia appartenenti all'ordine dei ditteri. Ma procediamo con calma, perché vi sto parlando delle mosche? Perché si avvicina l'autunno, almeno in questa parte dell'emisfero, e cominciano a vedersi le mosche in giro. Questo mi ha fatto ricordare di un libro di cui ho iniziato a parlare qualche settimana fa, intitolato Superfly, col sottotitolo Le vie inaspettate degli insetti di maggior successo al mondo. È un libro che ancora non credo sia stato tradotto in italiano, l'autore Jonathan Malcolm, vi metterò il link delle note del programma. E cosa dice questo signore? Dice che proprio per la loro capacità di diversificarsi, le mosche sono le padrone incontrastate del nostro mondo. Ne esistono oltre 160.000 specie descritte. È importante mettere tra virgolette descritte, perché secondo questo signore ne esisterebbero 5 volte di più non descritte, che ancora non sono state osservate, quindi non sono state catalogate. Ora, gli insetti formano l'80% del mondo animale, e all'interno della categoria degli insetti, che già è la stragrande maggioranza del mondo animale, le mosche, diciamo che occupano una parte non indifferente, perché con tutte le loro sottospecie, in ogni momento che trascorre nel mondo, ci sono 20 milioni di mosche per ogni essere umano. Qualcuno si è preso la briga di fare i conti e sono circa 20 quadrilioni di mosche. Non ditemi che cosa significa un quadrilione, perché non lo so. Però le mosche non sono solo fastidiosi, ma sono anche importanti. Infatti, anche le mosche concorrono alla impollinazione dei fiori e dei frutti. E ci sono alcune specie che vengono impollinate esclusivamente dalle mosche, come i gigli e i pisegli. Adesso non pensate alla mosca comune, alla mosca domestica, perché, ripeto, mosche in generale è il nome dato all'ordine dei dittiri, che include mosche, mosconi, zanzare e anche altri insetti a sei zampe. E' una lettura molto interessante, perché ci fa vedere da un punto di vista diverso questi piccoli esseri, che in questo momento noi invece siamo così occupati a mandar via e ad ammazzare a colpi di palettate sul tavolo e in tutti gli altri posti della casa.